Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì o giovani col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione. Le parole di Piero Calamandrei descrivono quasi alla perfezione la giornata vissuta da chi ha voluto celebrare la festa della liberazione a Castelnuovo a Volturno. Dopo la rituale deposizione delle corone dall'oro nel luogo in cui morì il partigiano Jaime Pintor, i presenti hanno raggiunto il monumento di Monte Marrone dove comincia a muovere i primi passi il corpo italiano di liberazione per riflettere ancora sul senso di questa giornata in un periodo storico in cui certi valori vengono sacrificati sull'altare del profitto in un'epoca in cui la parola guerra torna a far paura. Questo che noi facciamo ogni anno è un pellegrinaggio laico in un luogo che è molto forte simbolicamente per la nostra provincia e per la nostra regione. Come dicevi ci sono dei valori che sono e qualcuno sta tentando di stracciare e ogni anno dobbiamo difenderli. Quest'anno la notizia buona è che abbiamo difeso la nostra Costituzione dall'attacco di chi voleva stravolgerla. Noi siamo i nuovi partigiani, non combattiamo con le armi ma combattiamo contro i sopprusi e gli abusi che questa società purtroppo ci mette di fronte. Le nuove generazioni devono far tesoro di quello che è successo di capire che siamo venuti fuori da una guerra tremenda. I giovani devono portare avanti i valori che sono libertà, uguaglianza e solidarietà. Ma sì c'è la partecipazione delle organizzazioni sindacali, non solo per rendere omaggio a chi ha lottato per dare la libertà agli italiani, ma anche per ricordare che il lavoro che oggi non c'è è un diritto sancito da una Costituzione che più di qualcuno vorrebbe spazzare via. Oggi sono tanti quelli che ci dicono che questa Costituzione andrebbe cambiata. Ci sono le famose agenzie finanziarie internazionali che nei mesi scorsi ci hanno detto addirittura che bisogna cambiare la Costituzione italiana perché è troppo democratica. Noi li ringraziamo del Consiglio, ma ci teniamo ben stretta la nostra Costituzione proprio perché è una Costituzione democratica. Bisogna ricordarlo in questo momento particolare dove sembra che davvero la storia non abbia insegnato nulla perché ci sono venti di guerra, il populismo, c'è qualcuno che crede ancora di giocare alla guerra nonostante si sa le tragedie che produce ogni giorno. Siamo qui a ricordare quei valori di libertà. Da quella resistenza e quella liberazione è nata la nostra Costituzione che viene imbediata però spesso non è rispettata. Di fronte a quelli che sono i valori e che sono in questo caso i valori anche della Costituzione, della democrazia, della partecipazione e del lavoro, sono uniti, ci sono e ci saranno sempre perché questi sono valori fondamentali per noi ai quali vogliamo dare una importanza particolare anche attraverso il ricordo di quello che è il passato, che è il futuro che oggi noi abbiamo. Non saremmo quello che siamo e non avremmo le libertà che abbiamo se non ci fosse stata quella resistenza.